Nero è uscito contro attacca, neanche provo a fare la stessa cosa di prima uscire, e adesso Nero gioco una mossa per andare a collegare questa pietra a queste, l'abbiamo vista già come tecnica la volta scorsa, ma non proprio in questo modo, perché qui c'è una differenza, cioè c'è un muro bello solido e non semplicemente il salto di due, per cui la tecnica che si usa è un po' diversa e permette di collegare proprio in modo sicuro, forse lo posso, andiamo. Allora, questa magari può anche andare, ma in questa devi andare, poi però succede così, 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 e bisogna leggerla, se bianco può tagliare qua. E questa era la forma che avevamo visto nell'ultima lezione, in cui però non si poteva approfittare del fatto che ci fosse una pietra nera qui. Avendo la pietra nera lì, si può fare un po' di negozio. Io c'ho in testa questa, però non riesco a leggerla attualmente, ho in testa questa roba qua, che se io... c'è un po' antipatico. Va bene, com'è che può fare il bianco per scollegarti? Non questa? Non questa, perché qua vado su un po' di cos'è dentro. Non questa? Perché taglio, vado dentro, e poi, perché se lo vaneci. Su questa, cioè qualsiasi cosa, bianco devi catturare? Se lui cattura io vado lì sotto, no, io vado qua, no, c'è un com, tanto. Se lo vado, c'è un po' di sintaggico. Un po' antipatico. Però se scendo due mie datari... No, no, così. Se scendo due mie datari, io se lo vado a catturare, non connetto. Vivo, ma non è. E non mi tengo, non è bello. Non funziona. Allora, non è questa. Sei curioso. E se fosse costa? Questa direi più di più. Sicuramente se lo vado a catturare. Beh, no, allora io vado di qua. Non da quella parte. Da quell'altra parte, poi vado sotto, e se vengo sotto, sono posto. Esatto. Perché non riuscivo a leggermente. Il punto era se bianco vieni qua. Se bianco vieni là... Beh, taglio. Tu dici, io taglio. Questo è obbligatorio, no? Ah, se lui viene su. Pianco cattura. Se bianco cattura. Attari. Se lui fa così c'è un ko, però. Sì. No, non c'è. No. Se tu catturi. E io vado giù. No, ma c'è comunque qua. Qua per fo... C'è un ko. Se tu catturi? Se io catturo è ko. Ecco. Va detto che è un ko un po' fastidioso, no? Vabbè. Nero più semplicemente. Ma bianco deve trovare una minaccia. Se nero... Se nero la ignora quasi... Quanto giocare qui. Se poi il luoco bianco deve essere catturare. bene. Beh, no. Comunque il problema è che la forma di bianco viene completamente distrutta. Questa c'è. Cioè, quando mi lo copriega... Troppo grande per me, erosco. Questa c'è. Non hanno proprio... Un occhio di niente. Cioè... Sono quasi pietre per tutte. Mi galleggio la cussa. Per cui è difficile per bianco iniziare un ko così. Perché cos'è che minaccia? Tra l'altro è che è abbastanza solido. Sì, le mie cose che può minacciare sono queste. però questo è più difficile era, non riesce a compensare che mossa di farvi, gioca qui, a qual è il seguito? poi andiamo qua, però... scappa si, certo, potrebbe essere è troppo rischioso tra il copo bianco conviene più rafforzarsi da questo lato per attaccarlo meglio senza fare il copo infatti questo però mi prepara un po' di base, no? per dire che non tirassi tutto quindi ci sta anche va